Musica Sabato 22 novembre, Santa Cecilia Martire di Roma. È il 326esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 39 alla fine. Il sole sorge alle 7.18 e tramonta alle 16.35. La luna si leva alle 6.58 e tramonta alle 16.52. Il maggior consiglio di Venezia decreta la concessione di un sussidio a certo zanino, domestico del defunto doge Marine Fallier. Poiché il zanino, dice il decreto, stette al servizio di Marine Fallier a più di 44 anni, non avendo mai ricevuto altro che il vitto e il vestiario e perciò gli è creditore di molto denaro, ordiniamo che gli siano dati, per amore di Dio, 10 ducati d'oro. Quarantunesima mostra dei vini Montello e Colli Asolani presso l'ex ristorante La Paesana a Volpago del Montello. Un weekend di serate enogastronomiche con piatti tipici abbinati ai nostri vini. Domenica dalle 11, apertura mostra, vini, prodotti locali e artigianali. Il Ballet of Moscow, uno dei corpi di ballo più famosi al mondo in Romeo e Giulietta. Appassionante spettacolo con ricchi costumi ed emozionanti scenografie. Giovedì 27 novembre, ore 20 e 30, Teatro Accademico di Conegliano. Prevendita biglietti online su Viva Ticket o al Jungle Records di Conegliano. L'amministrazione comunale di Silea vi invita allo spettacolo di Esefranchi de Acqua d'Espasimo, con Gigi Mardegan e la regia di Roberto Cuppone. Domenica 23 novembre, ore 17, presso l'auditorium parrocchiale di Silea in Via Roma. Ingresso libero! Le previsioni per domani. Tempo ancora stabile, in prevalenza soleggiato, salvo nubi alte in transito e presenza di foschie e nebbie in pianura e in qualche valle, specie nelle ore più fredde, localmente persistenti nelle ore diurne e specie sui settori meridionali della pianura. Temperature senza notevoli variazioni. Grazie a tutti i nostri spettatori.